Nona, call to action, qual è la tua value proposition? Perché parlo di questo? Perché molti imprenditori, e questa è una domanda che veramente si devono fare prima di aprire un e-commerce e in generale anche prima di aprire una qualsiasi attività, è veramente capire qual è l'elemento differenziante per i propri prodotti, per il proprio servizio, per la propria azienda, il proprio brand. Perché su internet, come abbiamo detto, c'è una concorrenza elevata e c'è una concorrenza soprattutto che non fa distinzione sul fatto, non ci sono più le distinzioni territoriali, quindi io posso comprare da dovunque. Quindi chiunque è effettivamente un tuo competitor, se tu vendi abbigliamento, attrezzatura, saldatrici, ferramenta o arredamento o vendi prodotti o servizi di qualsiasi altro genere, chiunque nella stessa pagina di Google, nella stessa pagina di Amazon è un tuo concorrente, quindi se è un colosso straniero che vende lo stesso a tipologia di prodotti è un tuo concorrente. Quindi è molto importante riuscire a creare una differenziazione molto precisa e specifica dei propri prodotti, del proprio e-commerce, della propria azienda e un elemento differenziante che deve essere sempre di più sottolineato in maniera adeguata utilizzando questi canali. Quindi questo è molto importante, la value proposition è estremamente fondamentale per poter veramente capire perché un cliente dovrebbe comprare da te e non da lui perché semplicemente ha una riga, un click di distanza da te. Quindi è molto importante, dato che non c'è più il limite delle distanze, non ci sono più tutti i limiti territoriali. Prima era un problema comprare magari, non so, da Milano e comprare un prodotto di un'azienda, non so, di Roma e così via. Adesso con internet non ci sono più queste differenze, quindi chiunque è un tuo concorrente è molto importante che tu riesca a capire, identificare subito e pianificarlo, inserirlo nella tua comunicazione perché un cliente dovrebbe comprare da te e non da una riga sotto, non parlo di tutta una fatica, da una riga, da un click sotto di te, quello è l'aspetto fondamentale. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti al nostro canale e se vuoi interagire con noi clicca sul pulsante che trovi qui sotto per iscriverti al nostro gruppo riservato. Ciao e al prossimo video!